McDonald's crede nelle persone e nella loro capacità di fare la differenza. Da McDonald's il 92% dei dipendenti è assunto con contratto stabile. Per questo rappresenta una porta di ingresso nel mondo del lavoro per tanti giovani. Come per Domenico. Grazie al mio lavoro sono riuscito a realizzare i miei progetti e ad essere più indipendente. Nel 2022 McDonald's prevede di assumere 5.000 persone in tutta Italia. Invia la tua candidatura su McDonald's.it